Vi servono crediti? FIFA15CoinSmile, troverete il link e il codice coupon qui in descrizione, sono veloci, affidabili ed economici E' appa ragazzi, bentornati su Gioia che è dispo e benvenuti nell'estrazione del contest da 100.000 crediti per PlayStation 3, PlayStation 4 100.000 crediti in palio per augurarmi un fine anno del 2014 Quindi oggi faccio questa estrazione e vediamo un po' chi è il fortunato vincitore Generiamo su random.org il numero 72 Ora bisogna andare a trovarlo Questo 72, vediamo se lo troviamo in fretta SC Vediamo 47, 112, 74, keep zone, peccato 77, va beh, ripeschiamo 148 148, non credo che ci sia qualcuno che abbia commentato Con centro, centro, centro 148 112, nulla Riproviamo Vediamo Gira, 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 tondo 20 20, vediamo che non... Con chi ha commentato col 20 27, peccato Peccato, 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 peccato 125, vediamo 125, 127, peccato, 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 peccato 125, 112, nulla Riproviamo 112, mi sa che questo c'è infatti Giuseppe Bottini Controlliamo se c'è qualcun altro 112 Eh, cazzo Eh, cazzo Cazzo Due vincitori 21 ore fa Però Questo ha commentato dopo 112 100 Lo scazzo sta 112 112 Giuseppe Bottini Ti metto un pollice all'insù Sperando che lo leggi Eh, dunque Giuseppe Bottini È commentato prima di quell'altro Quindi vale prima il tuo numero E Dove cazzo sta? Ah Giuseppe Bottini Allora Contattami su Facebook Se non ce l'hai Oppure commenta questo video Così ci possiamo mettere D'accordo per darti il premio Dunque ragazzi L'estrazione termina qui Mi raccomando Giuseppe Bottini Commenta qui O contattami su Facebook Dunque ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi